Imparare ad essere felici, un incontro di Paolo Crepè, il noto psichiatra, sociologo e scrittore. Paolo Crepè incontrerà le associazioni, incontrerà la cittadinanza, incontrerà l'avvocato Gina Lupo, assessore alla pubblica istruzione e alla cultura del Comune di Taranto, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto. Un incontro voluto da lei per stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica nella giornata della festa della donna, proprio sulle situazioni familiari, su questa felicità da ricercare. E inoltre è molto significativo che lei nella organizzazione ha unito, ha cooptato, mi passi questa espressione, numerosissime associazioni, mogli dei medici, donne senza frontiera, Lions, Rotary, Sor Optimist e quant'altro. Un momento in cui riflettere sul ruolo della donna, sulla famiglia e sulla felicità all'interno della famiglia. La felicità oggi è una parola preziosa, difficile da spendere. Allora Luigi andiamo per ordine. Intanto diciamo che io conosco questi club da tantissimi anni, da quando ero il tutor minorile di questa città, quindi da lontano nel 1997 e per sette anni sono stato il tutor minorile. Quindi ho conosciuto anche Paolo Crepe attraverso le sue tantissime pubblicazioni, perché Paolo Crepe è una persona che ha lavorato nei tribunali per i minori, addirittura il tribunale per i minori di Roma. È una persona che conosce profondamente le problematiche familiari, quindi non è solo lo psichiatra che magari tutti conosciamo. È un profondo conoscitore dell'infanzia, dell'adolescenza. I suoi testi sono stati un po' i libri su cui tutti noi, anche avvocati che ci occupiamo di problematiche familiari, hanno studiato per anni. Quindi è stata una felicità per me riuscire a portarlo a Taranto. Credo che sia la prima volta che Paolo Crepe verrà a Taranto l'8 marzo. Un altro motivo di soddisfazione è anche quello di essere riusciti, come hai detto tu bene, a mettere insieme ben 13 associazioni, perché noi abbiamo anche il Rotaract, che sono i ragazzi più giovani del Rotary, abbiamo il Lion Club, che sono appunto i giovani dei Lion, abbiamo una serie di associazioni. Segno è che ci voleva soltanto qualcuno che conoscesse la valenza di questi club, perché questi club fanno un'opera meritoria fantastica, non sono chiusi, però a volte è mancato il servizio di rete tra di loro. Beh, per una volta questi club... Questa funzione di collante che lei ha svolto. Hanno lavorato con noi, sono stati felicissimi di darci una mano, di contribuire alla riuscita, spero, di un evento che sarà accolto bene dalla cittadinanza, perché io ho voluto festeggiare la festa della donna in una maniera un po' inconsueta, attraverso una chiacchierata, un dialogo che Paolo Crepe farà con tutte le donne, con tutte le famiglie che verranno a sentire nel Salone della Provincia, l'8 marzo di pomeriggio. Quindi l'8 marzo, il Salone della Provincia di Taranto, dalle 18 in poi. Ora, il titolo del convegno Luigi prende spunto proprio dal suo ultimo libro, dove il libro parla proprio di come noi dobbiamo imparare, anzi, di come dovrebbero insegnarci a noi, sin da bambini, la ricerca della felicità. Cioè il bambino deve essere abituato non alla felicità effimera, che viene data magari dal dargli un giocattolo, da inserirlo in una società di consumo. Tutto è dato dall'apparire, dal cellulare di ultima generazione o dall'abito firmato, ma è insegnare al bambino la valenza di un abbraccio, la valenza di una parola di incoraggiamento, che deve passare anche attraverso una presa di coscienza delle istituzioni. Paolo Crepe nel suo libro accompagna il bambino dalla prima età, dando suggerimenti ai genitori ad accompagnare agli adolescenti, ma poi dà anche dei più importanti consigli al mondo dell'istituzione, perché la scuola, come dice Crepe, dovrebbe essere quel luogo meraviglioso dove il bambino entra pulito ed esce sporco. Cosa vuol dire? Che non deve essere uniformato, seduto, fermo, ma il bambino deve imparare a conoscere, a apprendere, anche attraverso dei modi fuori genese. E poi il suggerimento che è importante, secondo me, è anche che l'insegnante deve cercare di sviluppare nel bambino l'autostima, la possibilità di farcela da solo, anche attraverso il non uniformarsi. Anche il bambino che è disubbidiente, che non riesce a stare nelle regole, è un bambino che da grande potrà fare qualcosa di importante, e credo che sarà molto interessante ascoltarlo, perché Luigi, ognuno di noi, al di là del bene e del male, di quello che ci può capitare, dovrebbe avere questa serenità d'animo, questa ricerca di una felicità che, guarda, non è la gioia data dal momento, effimera, ma è una felicità più profonda, più costante, di do stare bene con noi stessi e di essere capaci anche ad affrontare le avversità e gli eventi negativi che possono capitare.